Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi sono qui ed indosserò delle vesti che solitamente non fanno parte del mio essere content creator, ma dato l'argomento sono quasi obbligato a farlo, poiché l'argomento di oggi è proprio lui, Sephiroth. In questi ultimi giorni, grazie al gioco di Dissidio per Omnia, nella versione giapponese, si è aperta una possibile interpretazione di quello che potrebbe essere il futuro del progetto remake. Ovviamente, tutto ciò che andrò a dirvi è una mia speculazione, non ci sono certezze. Però, perché dare tutto per scontato? In fin dei conti, creator di Dissidio per Omnia ci spoilerarono già il DLC di Stranger of Paradise mesi prima dall'uscita di esso. Per chi non lo ricordasse, l'animazione della FR di Jack Garland lo vede impegnato in combattimento con Emperor, che poi si scoprirà essere il villain del secondo DLC. Per cui, direi che possiamo cominciare. Nell'ultimo capitolo della storia di Dissidio per Omnia, abbiamo ricevuto come personaggio giocabile Angel, che si presenta agli altri membri della squadra dei buoni come uno dei migliori amici di Sephiroth. Dopo aver discusso con gli altri personaggi della situazione attuale di questo mondo, viene a conoscenza del fatto che Sephiroth fosse effettivamente il cattivo di cui tutti stessero parlando in quel preciso momento. Incredulo e dallo stesso tempo incuriosito, Angel non riesce ad accettare che quella persona di cui tutti avessero paura fosse il suo ex migliore amico. Decide così di trovarlo, parlargli, in modo tale da farlo rinsavire e smettere questo inutile conflitto. Una volta trovato Sephiroth, Angel nota che il suo ex amico non prova nessun interesse verso di lui. L'unico a cui mira in quel momento è Cloud. Angel a questo punto non si spiega questo cambiamento di Sephiroth, si colpevolizza anche poiché è conscio di aver abbandonato i suoi amici nel momento del bisogno e dopo un breve colloquio con tutti quanti gli altri notò che il modo di interagire di Sephiroth e le parole dette in quel tono e in quel modo non potevano essere del suo vecchio amico. Così ancora una volta a colloquio con gli altri chiede la possibilità di poter riprovare a parlare con Sephiroth e cercare di capire come il suo vecchio amico si sia potuto ridurre così. Nel frattempo Zack con Rufus Shira e gli altri membri dei Turks avevano scoperto ciò a cui stavano lavorando dal capitolo precedente, ovvero che quello non era il vero Sephiroth ma Genova sotto forma di Sephiroth. La famosissima calamità provenuta dal cielo è l'oggetto di ricerca del professor Hojo e parte integrante del progetto Soldier. Tutto così iniziava magicamente a prendere senso nel cuore di Angel che rincuorato capì che effettivamente quel Sephiroth era in realtà Genova e che il vero Sephiroth si trovava dentro di essa e che forse stava cercando aiuto. Ma allora perché in quel momento Genova era così ossessionata da Cloud? Una volta scoperta la verità il gruppo affronta finalmente Genova che confessa così a loro tutta la verità. A quel punto in me si apre una nuova via, un nuovo pensiero ed una nuova teoria che potrebbe collidere col progetto remake. E se davvero Sephiroth stesse chiedendo aiuto per essere salvato? In fin dei conti grazie ad un altro gioco mobile, ovvero Final Fantasy VII Ever Crisis, stiamo imparando a conoscere il passato di Sephiroth, stiamo constatando il fatto che lui non è mai stato cattivo da sempre. Anzi, inizialmente sembra essere quasi goffo in alcuni momenti. Figuratevi che non riesce neanche a relazionarsi né a comunicare in modo amichevole coi suoi colleghi di First Soldier. Sono cose che impara successivamente e che probabilmente sacrificherà nel corso dell'opera. Ovviamente qualcuno potrebbe pensare, hey ma vedi che Sephiroth è morto, come può chiedere aiuto? Sì, anche questo è vero, però come ben sappiamo Sephiroth viene ucciso Sida Cloud all'interno del reattore di Nibelheim che lo vede cadere successivamente in esso, immergendosi nel livestream. Dunque integrandosi con esso e diventando esso stesso una materia equipaggiata successivamente da Genova. Nell'introduzione di Ever Crisis è lo stesso Sephiroth che ci parla del livestream e ci spiega cosa sia veramente. Per cui è possibile che Sephiroth tramite il livestream stia cercando di comunicare e stia cercando effettivamente aiuto? E in quel caso allora è possibile che nel finale del remake stia davvero chiedendo una mano a Cloud per tornare ad essere quello di prima? Ed è per questo che nonostante la sua forza impressionante decide di lasciarlo in vita? Ma in tutto ciò perché Cloud è così importante per Genova e per tutti e due? A mio avviso Cloud è il ponte tra Sephiroth e Genova. Infatti Genova ovviamente non vuole che Cloud possa ricordare e possa eventualmente perdonare ed aiutare successivamente Sephiroth e in qualche modo altera per questo motivo la sua realtà. Gli provoca delle visioni contrastanti in modo tale da coltivare questo odio che nutre verso Sephiroth. Che al contrario potrebbe essersi pentito dei fatti di Nibelheim e potrebbe finalmente ottenere redenzione sconfiggendo Genova. Che in fin dei conti rappresenta il vero cattivo della situazione da sempre. Ho già immaginato un finale spettacolare in cui Sephiroth, Cloud, Zack e Deris finalmente possono liberarsi definitivamente dal male e combattere finalmente Genova. In tutto ciò però effettivamente manca il tassello principale, ovvero Angel, che ha causato questo mio pensiero laterale. Ma potrebbe essere invece che lui sia già presente all'interno della compilation del remake ma non abbiamo ancora avuto modo di vederlo? Vabbè, in questo caso, come si suol dire, chi vivrà, vedrà. Detto questo direi che posso concludere questo mio piccolo pensiero laterale. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate ed ovviamente ci vediamo con un prossimo appuntamento. Bye bye!